Dalle strade del centro storico affiorano nuove pagine del passato di Pistoia. Accade in un tratto della Ripa delle Stinche, che da Via delle Pappe, seguendo il pendio naturale di un'antica collina, porta verso Piazza del Duomo. A pochi metri dal Tribunale, ospitato nel Palazzo di San Mercuriale, sono venuti alle luce alcuni reperti che ad una iniziale analisi sembrano risalire al I secolo d.C., periodo imperiale dell'antica Roma. L'importante scoperta è avvenuta durante i lavori di manutenzione straordinaria dei lastri cadde del centro. Così, come in altre strade interessati ai lavori, gli interventi sono stati seguiti da un archeologo, come prescritto dalla soprintendenza. La sua presenza ha permesso ad identificare, nella terra smosta che affiorava via via, togliendo le grandi lastre di pietra arenaria della pavimentazione, alcuni reperti. Frammenti di ceramica e marmo sono stati indizi che in questo punto del centro storico potesse esserci qualcosa di significativo. Interrotti i lavori sono così cominciati quelli di scavo, che hanno permesso di far riaffiorare antiche strutture murari e reperti di interesse archeologico, anche di epoca romana. L'area non è nuova a ritrovamenti del genere. Sotto il palazzo di San Mercuriare, infatti, in passato, sono state trovate tracce di costruzioni del periodo imperiale. Ancora è presto per poter avere un quadro chiaro di cosa possa celare questo spicchio di centro storico di Pistoia, ma alcuni indizi fanno ben sperare. I ritrovamenti romani, infatti, sono emersi a poche decine di centimetri dal terreno, su cui erano appoggiate le lastre della pavimentazione, a poca distanza dai palazzi che, nei secoli successivi, hanno costituito parte del nucleo medievale del centro storico cittadino. La notizia di queste prime scoperte ha subito attratto l'attenzione di molti curiosi. Nelle parole dei passanti, stupore d'orgoglio, scoprendo che la propria città, grazie alla preziosa opera di scavo, coordinata dalla sopraintendenza, possa avere ancora tanti segreti da rivelare, illuminando punti bui del proprio passato e che oggi tornano letteralmente alla luce.